Migliaia di posti di lavoro ma pochi candidati è quanto emerge dallo studio della Fondazione per la Sussidiarietà. La ripresa economica spinge le offerte di lavoro anche in Puglia, ma nel quarto trimestre 2021 le aziende devono colmare 27.120 posti vacanti e in quasi un terzo dei casi faticano a trovare candidati. Il rapporto, basato su dati Excelsior, segnala che 4.820 posizioni, il 18%, riguardano dirigenti o figure con elevata qualificazione. Altri 9.130 posti sono per impiegati e funzionari. Le restanti 13.160 posizioni riguardano operai o figure non qualificate. Nel 31% dei casi le imprese faticano a trovare personale per scarsità di candidati o carenza nella loro qualificazione, introvabili in particolare ingegneri elettronici ed informatici. La ripresa spinge la creazione di lavoro e anche in Puglia, grazie alla storica vocazione produttiva, commerciale e turistica, osserva Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Il lavoro però si sta trasformando. Oggi è sempre più un percorso e sempre meno un posto. Tutte le professioni stanno cambiando a ritmi mai visti e molte figure specialistiche non si trovano. Lo sviluppo va perciò sostenuto con politiche attive che favoriscano la mobilità e la formazione continua. La Puglia si conferma una regione ad alta vitalità economica nel sud ma al di sotto dei livelli nazionali. Fino a fine 2020 erano al lavoro il 54,3% delle persone fra 14 e 65 anni, ovvero 4 punti sotto la media italiana del 58,4%.